dunque ho ricevuto la carta e subito e ho cominciato a utilizzarla praticamente per tutto come vi ho fatto vedere sia offline che ovviamente online questo perché la carta di crypto.com mi permette di avere denaro indietro quindi denaro non punti o altro per qualsiasi acquisto io vada a fare ogni volta che la utilizzo c'è un piccolo guadagno che ovviamente sommato lo vedremo mi porta ad avere qualcosina in più da poter spendere oggi ne parliamo in un video dedicato perché dopo quello relativo a tutta la piattaforma che vi è piaciuto un sacco ho avuto modo di provarla in prima persona appurando che il cashback viene erogato e tutto funziona perfettamente pagando come vi ho detto tutto rigorosamente in euro ecco perché anche se non ci interessano minimamente le criptovalute per me è una carta assolutamente da avere inoltre come vi ho detto nelle storie di instagram degli ultimi giorni allo stato attuale è molto conveniente e c'è come vi ho detto il bonus all'iscrizione che potete poi ricevere ancora se invitate altri vostri amici in ultimo dal punto di vista estetico è tra le più belle utilizzate in metallo fa la sua figura in termini estetici e quella che vi consiglio comunque è la ruby red approfondiamo tutto il funzionamento dopo la sigla questo è un video di aggiornamento in quanto ho utilizzato la carta per qualche mese e ho guadagnato una bella somma la andiamo a vedere insieme e tra l'altro vi aggiorno perché solo per qualche altro giorno ci sarà il bonus di 50 dollari all'iscrizione fino al 31 ottobre e dato che il CRO il token necessario per richiedere la carta costa davvero poco in questo momento è davvero conveniente lo andiamo a vedere in termini di numeri direttamente sull'applicazione che ho qui come sempre ma capiamo di che carta si tratta ovvero la ruby still di crypto.com una carta che ci dà il 2% di cashback su qualsiasi operazione andiamo a fare quindi per ogni euro speso riceviamo indietro il 2% questo vale sia nei supermercati, nei negozi fisici che online quindi magari su Amazon o su altri siti inoltre abbiamo il rimborso completo di Spotify Premium quindi ogni mese Spotify Premium sarà gratis pagando con questa carta riceviamo indietro l'intera somma che noi appunto andiamo a spendere come fare per ottenerla? è per ottenere il bonus di 50 dollari per ottenere il bonus basta iscriversi all'applicazione scaricando e registrandosi direttamente dal link in descrizione serve un link apposito e volendo c'è anche in descrizione la guida su Techstart dove ci sono maggiori informazioni una volta fatta la registrazione troveremo già i 50 dollari di bonus al cambio di oggi 42-43 euro direttamente sul nostro conto per sbloccarli dobbiamo ordinare la carta come fare per ordinare la carta? è semplicissimo e adesso definiamo anche i numeri il tutto andiamo sull'applicazione e clicchiamo su Trade e poi su Buy inoltre su Crypto.com Coin quindi i CRO e ce ne servono mille per poter ordinare la carta Rubistil troveremo poi la voce direttamente nella sezione card in basso a destra dell'applicazione mentre registro il costo di mille CRO è di 86 euro inseriamo una carta prepagata di credito oppure possiamo fare un bonifico e prendiamo questi token preciso che quando ho ordinato i miei primi token io praticamente ho speso tra virgolette 200 euro ma bisogna un attimo fare chiarezza non si tratta di fare una spesa al mio punto di vista ma si tratta di mettere da parte perché comunque qualora io volessi potrei vendere comunque i token che ho preso in precedenza e recuperare il denaro che in precedenza appunto avevo investito ma non lo faccio perché in questo modo mantengo i benefit della carta però comunque lo staking necessario per la Rubistil è di 6 mesi quindi dopo i 6 mesi io posso sbloccare i token posso fare quello che voglio quindi posso rivenderli posso cambiare in qualche altra valuta ho piena libertà il bonus invece è disponibile all'istante e quindi con quello posso trasferirlo subito su un altro mio conto bancario posso tenerlo lì e caricarlo sulla carta da spendere poi per avere il cashback o magari appunto cambiarlo in altre valute una volta fatto l'acquisto poi nella sezione card andiamo poi a inserire la carta lasciamo la carta e inseriamo appunto le informazioni per la spedizione e il nostro nome perché la carta è in metallo come abbiamo visto e il nostro nome inciso sopra questo in termini estetici dà anche un tocco in più dal mio punto di vista inoltre come ho detto prendiamo appunto allo stato attuale 86 ma anche se fossero 90 100 euro 120 130 euro sarebbe comunque super conveniente perché poi man mano nel tempo andremo sempre a recuperare di più come vi faccio vedere appunto tramite i miei guadagni allo scopo comunque di tenere presente che appena faccio appunto inserisco 86 euro me ne torno indietro 43 istantaneamente come vi ho detto tramite il bonus di iscrizione che solo per qualche altro giorno ci sarà dunque andiamo poi a vedere qual è stato il mio il mio guadagno ci sono qualche centinaio di dollari fortunatamente in termini di cashback grazie alle spese che ho potuto fare con la carta non solo le mie in questo caso e questo mi ha permesso di recuperare abbondantemente quello che era stato appunto l'investimento iniziale in cui ci sono 5 dollari che la piattaforma ci regala se abbiamo un amico che ha il crypto.com se ci scabbiamo qualche token senza nessun tipo di commissione e poi ovviamente è indicato il bonus di iscrizione iniziale che anche nel mio caso è stato di 50 dollari all'epoca l'ho cambiato in ethereum per esempio questo poi mi porta all'ultimo punto ovvero quello degli amici una volta fatta la carta o comunque ha avuto l'applicazione possiamo invitare a nostra volta altri amici e riceveremo il bonus di 50 dollari se il nostro amico andrà a fare lo staking necessario per ordinare la carta ruby steel inoltre vi faccio vedere direttamente i cashback che vengono erogati perché il cashback viene erogato istantaneamente quindi appena faccio l'acquisto subito mi viene riaccreditato sul wallet il corrispettivo di quello che ho speso appunto in percentuale ci sono tutta una serie di cashback come vediamo e sono tante spese diverse ma cosa importante dobbiamo andare a vedere quello che riguarda spotify perché in quel caso addirittura si può avere un guadagno ad averlo appunto perché quando viene fatta la transazione di spotify non solo ci dà il cashback sulla transazione quindi magari dei 9,99€ di un account singolo o qualcosina in più nel caso di un account family e poi ci rimborsa l'intera cifra quindi avrò indietro tutta la spesa e in più appunto il cashback relativo al fatto che spendo quei 10€ al mese eccolo qui comunque sul card rebate spotify possiamo vedere che quando viene fatto viene scalato nel mio caso si tratta di un account spotify family ricevo automaticamente indietro il denaro relativo alla mia spesa e questo mi permette di avere spotify gratis quindi io spero di avervi rassunto tutto in modo rapido possiamo comunque parlarne su instagram vi lascio il profilo in descrizione o direttamente giù nei commenti per qualsiasi domanda come vi ho detto il bonus purtroppo è fino al 31 ottobre però anche venendo dopo il video il bonus sarà di 25 dollari e dal 2 novembre serviranno anche più token per riservare la carta ed è per questo che secondo me vale assolutamente la pena in questo momento richiedere questa carta che non ha competitor allo stato attuale non ci sono altri player sul mercato che ci offrono cashback di questo tipo comunque utilità e ricevere indietro qualcosa dalle nostre spese sempre e comunque senza alcun tipo di costo senza nessun tipo di commissione altrimenti non ne avremmo proprio completamente parlato qui sul canale lasciate un like al video se il video vi è servito e vi è piaciuto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti i prossimi